Cari amici, è un grande piacere ricordare la splendida esperienza dello scorso anno nel ricevere il premio Giovanni Paolo II, non solo per essere stato, sia pure per un attimo, accostato al nome di un uomo che ha fatto la storia recente e la storia in assoluto, ma anche per l'emozionante incontro con le scuole di Bisceglie e per la serata di premiazione che è stata così ricca di testimonianze. Vi auguro tante nuove emozioni con le storie dei premiati di quest'anno e mando un grande abbraccio alla squadra che organizza il premio, al professor Monopoli e ai conduttori della serata. Un abbraccio a tutti!